E' in carcere dal giugno dello scorso anno per avere ucciso l'ex moglie e tentato di uccidere il suo nuovo compagno. Adesso Francesco Provenzano, GUP del Tribunale d'Egrigento, lo condanna a 30 anni di reclusione. Parliamo del ravanusano Luigi Gallo, il 64enne che uccise l'ex moglie Giovanna Longo di 60 anni il 25 giugno 2013 in un parcheggio nei pressi del mercato cittadino e accusato anche di minacce, porto e detenzione legale di arma in luogo pubblico e ricettazione. Per il PM Santo Fornasier, che aveva chiesto 30 anni di reclusione, i morti dovevano essere due e non solamente la moglie, che aveva deciso di rifarsi una vita insieme all'ex consigliere comunale Luigi Avarello. Il delitto di quest'ultimo non si consumò per la pronta reazione dello stesso. Avarello bloccò la mano di Gallo ed evitò il peggio. Una volta arrestato, Gallo gridò in faccia ad Avarello. Oltre alla moglie, volevi portarmi via anche le proprietà. Appena esco ti ammazzo. Grazie a tutti.